Omicidio Walter Albi, a Chieti sfilano i testi dell'accusa, in aula la testimonianza sull'agguato del capo della mobile e le immagini del delitto. La vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno, a Campobasso, al fianco di Maria Luisa Forte. Ferrandino, di azione, chiede un'Europa più vicina al sud. A Pescara, Lega Ambiente, chiede impegni concreti ai candidati. Cantieri Anas, Fermin, provincia di Teramo, l'associazione consumatori Robin Hood denuncia il caso alla Corte dei Conti. Vertenza Vibas ha annullato il licenziamento collettivo. L'assessore di Lucente parla di risultato storico. GAM, la regione dovrà sborsare quasi 500.000 euro. All'Unimol, il talento mulisano incontra le aziende che operano sul territorio nazionale e internazionale grazie all'evento Career Day. Rieducare gli autori di reati sessuali affinché non siano ricidivi. Assumona il primo protocollo in Abruzzo. Calcio Lega Pro, Matt Rizzetta esce dall'Ascoli e sogna un Campobasso ambizioso. A Pescara tifosi sul piede di guerra contro la società. Buonasera e ben trovati con l'edizione delle 19.30 del nostro telegiornale. In apertura lo avete sentito dai titoli. Ci occupiamo di cronaca e dell'omicidio di Walter Albi. A Chieti sfilano i testi dell'accusa. Il capo della mobile di Pescara ha raccontato i momenti dell'agguato nel bar della strada Parco avvenuto due anni fa. Mostrate le immagini del delitto. Valentina Ciarlante. Otto colpi di pistola, una beretta calibro 9x21, quattro a vuoto, due contro Walter Albi, 66 anni, morto nell'agguato, due verso l'amico, ex calciatore cinquantenne Luca Cavallito, miracolosamente salvo che ha dichiarato di aver riconosciuto dalla voce il killer. Il rumore dei proiettili esplosi due anni fa, il primo agosto del 2022, nel bar della strada Parco di Pescara è risuonato nell'aula della corte d'assise di Chieti, mentre il capo della squadra mobile di Pescara, Gianluca Di Frischia, raccontava passo dopo passo l'omicidio e le fasi dell'indagine, col supporto delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza della zona. Per l'assassinio dell'architetto pescarese Walter Albi e per il tentato omicidio di Cavallito. Sono accusati Mimo Nobile, presunto autore materiale, cui l'altro imputato, Maurizio Longo, avrebbe fornito l'arma rubata 20 giorni prima a una guardia giurata. Alla sbarra anche Natale Ursino, unico a piede libero accusato di essere il mandante. In aula i testi della pubblica accusa, ma le tesi dei IPM vengono contestate dalla difesa. Massimo Galasso, avvocato di Nobile. C'è la testimonianza di una persona offesa che sostiene di aver, almeno per quel che riguarda noi, parlo della posizione di Nobile, c'è la posizione di una persona offesa, una parte civile che dice di aver riconosciuto Nobile nel momento in cui sparava. Quindi c'è questa testimonianza, il resto non è neanche indiziario, c'è questa testimonianza, dovremo valutarla quando verrà qui in corte d'assise, ovviamente il testimone dovremo varificarla, vagliarne l'attendibilità, come si dice in questi casi. Il caso della rapina della pistola è solare, ma nell'omicidio Longo non c'entra nulla, le parole dell'avvocato Giovanni Scarfò. Allo stato attuale si potrebbe dire che ancora non emerge alcun ruolo di Longo, che Longo allo stato ancora non appare in questo processo. Quindi dobbiamo vedere cosa ci diranno in seguito. Quello della rapina era implicato sicuramente, però in questo processo non ci sono elementi che possano portare la sua persona. L'avvocato di Ursino Luigi Pelusi ha commento che gli elementi dell'accusa non dimostrino la responsabilità del suo assistito. Dal 18 giugno 2022 al 31 agosto 2022, nonostante l'esame di un gran numero di telefoni riferibili a tutte le persone coinvolte in questo procedimento, persone offese, imputate, una copiosissima acquisizione di tabulati. Dal 18 giugno 2022 al giorno dell'omicidio, quindi quasi due mesi, Nobile Cosimo non compare in nessuno di questi accertamenti. Ed ora apriamo l'ampia pagina dedicata alla politica abruzzese e a quella molisana. Iniziamo con la visita della vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picerno, esponente del Partito Democratico a campo basso in vista delle europee e per sostenere la candidata sindaca della coalizione progressista Maria Luisa Forte. Ci dice tutto Franco De Santis. A poco più di una settimana dalle elezioni europee e amministrative la campagna elettorale entra nel vivo. Questa mattina la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picerno, è arrivata a Campobasso per lanciare la propria candidatura a Bruxelles e supportare Maria Luisa Forte alle prossime comunali. L'esponente del Partito Democratico si definisce una donna del Sud impegnata nella scorsa legislatura in Parlamento europeo al fianco di David Sassoli, i numerose battaglie per rendere l'Europa più solidale per il Next Generation e per il PNRR, per i diritti delle donne e i diritti civili. Seguendo la lezione, l'insegnamento, la visione di un grande italiano, di un grande democratico che si chiamava David Sassoli, in quella scia noi vogliamo continuare a lavorare e muoverci rendendo l'Europa per davvero la casa delle cittadine e dei cittadini europei. Io non smetto di ricordare che durante i periodi più difficili e bui per il nostro continente, durante il Covid, Davide Sassoli ha aperto il Parlamento europeo ai cittadini più in difficoltà. È diventata quella per davvero la casa di tutti e noi vogliamo continuare a seguire questa lezione, che è stata una lezione fondamentale per tutti noi, che conserviamo nel cuore, rendere l'Europa più prossima nel rapporto che esiste e che esisterà sempre di più tra le città, le comunità locali e le istituzioni europee. Un'Europa che non è capace di decidere, non può appassionare nessuno e con tutti i limiti, le ingestature che ancora esistono, penso al diritto di veto, voi sapete che quando si arriva in consiglio basta il ditino alzato di uno qualsiasi dei 27 per impedire di prendere decisioni ambiziose. Ecco, noi abbiamo bisogno di superare tutti quei limiti che hanno impedito all'Europa di esserci davvero. La candidata sindaca forte ribadisce che sente un clima di grande ottimismo attorno alla sua persona da parte della cittadinanza campobassana e conta di poter governare il capoluogo. Sta procedendo molto bene, stiamo facendo tanti incontri sia formali che informali con associazioni, con categorie, ordini professionali e con tanti cittadini. C'è entusiasmo, ci sono aspettative e il nostro programma è stato diffuso, è stato letto e apprezzato. Ci arrivano tanti suggerimenti e quindi noi pensiamo che sicuramente amministreremo bene questa città insieme a tutti i cittadini. E noi stiamo conducendo insieme anche ai candidati dell'Europea e di tutta la coalizione progressista una battaglia comune. L'Europa rappresenta una grande opportunità per i territori del Sud. Ecco perché è necessario lavorare a un progetto di un'Europa più forte e coesa. Lo ha detto Giosi Ferrandino, candidato nella circoscrizione Sud per azione. Sentiamo cosa ha detto ai microfoni di Fabiana Abbazia. Imprescindibile il lavoro e il contributo dell'Europa per il nostro paese. Lo dice con fermezza e convinzione Giosi Ferrandino, candidato ad azione alle prossime europee nella circoscrizione meridionale. Già vicepresidente della Commissione Pesca e membro delle commissioni trasporti, turismo e problemi economici e monetari. Ferrandino a Bruxelles è anche capo delegazione del partito guidato da Carlo Calenda. Superare il 4% l'obiettivo di chi sui territori sta riscontrando partecipazioni ed entusiasmo per una proposta politica che sia moderata, orientata a risolvere i problemi e migliorare le condizioni generali di vita del Sud a partire dall'Abruzzo e dal Molise. Se andiamo in giro per il nostro Sud vediamo di quante infrastrutture abbiamo bisogno. Senza le infrastrutture non ci sono investitori, senza gli investitori non aumenta il PIL, quindi non aumenta quel reddito pro capite che tutti quanti noi ospichiamo che invece aumenti e soprattutto le nostre parti. Qui noi abbiamo da risolvere le famose tenti che sono i corridoi europei. Noi qui sull'Adriatico si ferma per esempio ad Ancora, non continua, deve continuare. C'è un investimento notevole da fare. Questo corridoio ovviamente porterà ricchezza, industria e investimenti in queste zone. C'è da collegare il tirreno con l'Adriatico per fare in modo che il porto di Civitavecchia possa servire le zone industriali dell'Abruzzo. Tutte azioni su cui l'Italia dovrà operare in fretta e bene ma che rappresentano una grande opportunità sommata comunque ai fondi di coesione della nuova programmazione europea e poi sanità, salario minimo, giustizia, inclusione, i temi che azione intende continuare a portare avanti. Andiamo a Caivano. La visita di Giorgia Meloni dimostra che lo Stato finalmente è presente anche e soprattutto dove ce n'è bisogno e dove prima mancava. commenta la parlamentare molisana di Fratelli d'Italia, Elisabetta Lancellotta. Le parole di Don Patriciello che ha speso la sua intera vita per combattere l'illegalità sono la testimonianza migliore di quello che di buono si sta facendo a Caivano e che abbiamo cominciato a replicare in tutte le zone di degrado della nostra nazione. Il governo Meloni sta finalmente portando la legalità nelle periferie, conclude la Lancellotta. E ci spostiamo ad Isernia. Resistenza e resilienza dei giovani in special modo al sud in un'unica parola restanza. Francesco Todisco, candidato al Parlamento europeo per il PD ha parlato di questo e di altri temi ai cittadini. Ci dice tutto Nicola De Santis. Restanza è forse un termine desueto. Viene utilizzato per indicare la decisa volontà di chi pur in condizioni economiche sfavorevoli decide di restare sul proprio territorio per vivere e lavorare, magari per far crescere i propri figli. E proprio restanza è il termine scelto da Francesco Todisco, candidato del Partito Democratico al Parlamento europeo per la circoscrizione meridionale. Nello spazio d'arte Petri e Caesernia sono intervenuti tra gli altri l'ex presidente della provincia Lorenzo Coia e il consigliere comunale del PD Alessia Panico. Io mi sono sempre occupato di aree interne e per me è fondamentale ribartare il cliché sulle aree interne perché spesso e volentieri sono osservate con l'occhio di chi abita nelle grandi realtà urbane, nelle città metropolitane e qui indivige la logica dei borghi, della cartolina incantata, dei bei luoghi dove passare un bel fine settimana. Invece noi dobbiamo guardare le aree interne con l'occhio di chi vive qui e io sono convinto per tutte le esperienze che ho avuto in questo settore che sia necessaria una legislazione speciale all'interno di una cornice complessiva perché se non si fa così, se vigono le regole che vigono per le realtà urbane, ad esempio per il dimensionamento scolastico, piuttosto che per la medicina territoriale, piuttosto che per tutti i servizi che restituiscono dignità alla cittadinanza, i nostri comuni, i nostri paesi non ce la faranno a resistere. Quindi è necessario ribaltare completamente la visione e concentrarci su politiche specifiche che consentano di preservare le nostre città e le nostre comunità. A Pescara i candidati alle europee a confronto con Lega Ambiente sul Green Deal. L'associazione chiede a tutte le forze in campo di redistribuire le risorse in favore della decarbonizzazione. Sentiamo tutto da Valentina Ciarlante. Carpe Deal, lo slogan che fa da sfondo al documento stilato da Lega Ambiente a livello nazionale è che le sezioni regionali stanno discutendo sul territorio con i candidati al Parlamento europeo. Nella sede dell'associazione di Pescara la presidente Silvia Tauro ha sottoposto a Manola Di Pasquale, Paolo Dell'Aventura, Giulia Persico, Valentina Corneli e in rappresentanza del centrodestra al deputato pescarese Guerino Testa i punti di quello che è stato definito un patto europeo per mettere in opera un'ambiziosa azione comune in favore dell'ambiente. La crisi climatica è sempre più evidente e occorre affrontarla anche con l'obiettivo di far ottenere ai cittadini benefici economici. 16 priorità per energia, economia circolare e altro. L'idea di Lega Ambiente è finanziare un nuovo Green Deal in maniera convinta, come spiega Mauro Albrizio, responsabile dell'ufficio europeo dell'associazione. Si tratta di ricollocare le risorse attuali facendo delle scelte. Un solo esempio, i sussidi alle fonti fossili a livello europeo e nazionale attualmente ammontano a 360 miliardi l'anno. Bisogna fare delle scelte politiche. È questo che noi chiediamo ai candidati, sottoscrivendo il nostro patto europeo per il futuro. Lo chiediamo sapendo che rendere più competitiva l'Europa e più inclusiva ha anche un grande benefitto economico e sociale per i cittadini europei. Consueto appuntamento settimanale domani sera alle ore 21 su questa rete con conto alla rovescia. Il talk di approfondimento politico a cura di Pasquale Damiani. Nella prima parte si parlerà del ruolo della donna nella società. Ospiti la scrittrice Rita Frato Lillo e la sindaca di Casa Calenda Sabrina Lallito. Nella seconda parte fa ripuntati sulle elezioni comunali a Termoli. Ospiti sei candidati alla carica di sindaco. Appuntamento dunque a domani sera alle ore 21 con conto alla rovescia. Apriamo ora la pagina dedicata alla cronaca. Consegna di marijuana a domicilio a Pescara da parte di una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine notato da un poliziotto fuori servizio entrare in un camper e allontanarsi furtivamente subito dopo. I colleghi della volante intervenuti hanno quindi deciso di procedere al controllo e nonostante la resistenza di una delle due persone presenti nel mezzo, un uomo di 65 anni di Pescara, hanno rinvenuto e sequestrato alcune dosi di marijuana e 300 euro in contanti. L'uomo è stato arrestato e denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Restiamo in Abruzzo. Fine di un incubo per i familiari di Barbara Gagliardi, la 46enne pescarese residente a Chieti che da lunedì non dava notizie di sé. La donna sta bene, si è recata spontaneamente dai carabinieri della città Teatina che insieme alle altre forze dell'ordine, all'elicottero dei vigili del fuoco di Pescara e ai volontari si stavano occupando delle ricerche senza sosta dopo il ritrovamento dell'auto nei pressi dell'ermo di Rocca Morice. E ci spostiamo a Campobasso nella nottata di domenica presso la sala operativa della Questura è pervenuta una richiesta di intervento per una rissa tra i cittadini stranieri nel centro storico. L'equipaggio della squadra volante è intervenuto e ha riscontrato la presenza di molteplici tracce della rissa appena consumata, macchiematiche, sedie e tavoli rovesciati sul posto. Erano presenti anche tre stranieri sanguinanti, due dei quali presentavano molteplici ferite da arma da taglio e che sentiti in merito hanno dichiarato di essere stati aggrediti da un giovane egiziano armato di coltello. Nelle ore successive l'attività di indagine ha consentito di giungere alla compiuta ricostruzione della dinamica dell'accaduto e dall'individuazione dei responsabili. E cambiamo argomento, andiamo a Teramo. L'associazione dei consumatori Robin Hood denuncia alla Corte dei Conti il blocco dei cantieri ANAS. Ci dice tutto Chiara Bonatti. L'associazione Robin Hood denuncia alla Corte dei Conti il blocco da dicembre scorso dei cantieri della SS 18, della SS 80 e della SS 150. L'associazione che monitora i lavori pubblici per un corretto utilizzo delle risorse dei contribuenti ha riscontrato sul sito ANAS l'inconcruenza del fermo dei lavori sulle strade di proprietà di FS per maltempo e mancanza di pod, punti di rilascio di contatori da e-distribuzioni. In questa nuova funzione di cui abbiamo preso carico, una delle cose che noi facciamo è monitorare i cantieri appunto anche dell'ANAS. Abbiamo riscontrato che ci sono due cantieri dell'ANAS che sono fermi al 23 dicembre 2023 per maltempo, è una cosa incredibile perché quest'anno non è stata un'invernata particolarmente fredda con particolari problematiche di precipitazione e l'altra perché mancano dei pod per quanto riguarda le distribuzioni. I pod sono i punti di rilascio dell'energia elettrica, quindi sono dei contatori che la società elettrica doveva mettere. Noi riteniamo queste delle scuse per prolungare il termine dei lavori, ma al tempo da dicembre ad oggi sono passati 5 mesi, quindi è veramente poco credibile. E quindi abbiamo attenzionato per questo motivo l'autorità competente che è la Corte dei Conti per quanto riguarda eventuali aumenti dei costi di questi cantieri. In particolare l'associazione si sofferma sul cantiere chiuso e al ridosso di Montorrio Alvomano all'altezza dell'Opificio, situazione segnalata anche al prefetto. Per esempio una di quelle che abbiamo attenzionato è il cantiere fantasma, il cosiddetto cantiere fantasma dove ancora c'è la segnaletica del cantiere, ancora il cantiere non è stato ultimato, che è quello a ridosso del comune di Montorrio Alvomano partendo da Teramo all'altezza dell'Opificio Paisani. Lì per esempio non si capisce perché i lavori non siano stati terminati e perché questo cantiere si è scomparso. È stata annullata la procedura di licenziamento collettivo promossa dalla Vibac. L'annuncio a seguito del nuovo incontro che si è tenuto ieri mattina presso il Mimit a cui ha partecipato l'assessore alle attività produttive della regione molise Andrea Di Lucente, svolta quindi nell'avvertenza che vede coinvolto lo stabilimento termolese. È un risultato storico, commenta l'assessore molisano Di Lucente, ottenuto grazie al pressing incessante della regione su governo e azienda. È la prima volta per il nostro territorio che da una procedura di licenziamento si è ribaltato il fronte arrivando a parlare di iniziative di sviluppo e di nuove opportunità commerciali. E la regione molise dovrà corrispondere alla GAM quasi 500 mila euro. Lo ha stabilito la sentenza emessa dal giudice Claudia Carissimi del Tribunale Civile di Campobasso che definisce la causa tra l'azienda di Boiano in concordato preventivo e l'ente regionale. Accogliendo le tesi dei difensori della GAM, gli avvocati Francesco e Antonino Mancini, il Tribunale ha accertato e dichiarato il diritto di credito della GAM verso la regione molise per l'importo di circa 500 mila euro, condannando la regione al pagamento della somma oltre agli interessi legali e dalle spese di lite. Ed ora parliamo dell'Unimol, grande successo a Campobasso per la sesta edizione della giornata delle carriere. Tanti neolaureati e studenti hanno incontrato i rappresentanti di ben 62 aziende nazionali ed internazionali. Sentiamo tutto da Pierluigi Boragine. Molto importante, molto utile anche perché dà la possibilità ai neolaureati di provare subito uno sbocco lavorativo. Non sono venuto qui comunque a dare un'occhiata perché comunque le occasioni ci possono sempre essere. A Campobasso il confronto tra il talento molisano e le aziende, opportunità, occasioni, prospettive per il futuro per tanti ragazzi e ragazze che questa mattina hanno partecipato al Career Day organizzato dall'Università degli Studi del Molise che ha come obiettivo quello di promuovere, consolidare e ampliare l'integrazione tra la formazione universitaria, istituzioni e il mondo del lavoro. Partecipano sempre più aziende del Molise nazionale, internazionale perché funziona questo momento di incontro. Quindi le aziende sono contente, vogliono tornare, stiamo facendo una riflessione di aumentare la durata. Il prossimo anno di passare a due giorni o magari a tre giorni perché le aziende ce lo chiedono. È una bella soddisfazione. Un'occasione per Unimol per capire anche quali sono le reali e nuove richieste che giungono dal mondo produttivo. Capire se c'è un segmento lavorativo che si muove in una certa direzione, ci consente magari di modificare un indirizzo di un corso di laurea. Giovani, studenti, dottorandi, laureati, dottori di ricerca sono stati accolti da 62 aziende operanti a livello nazionale e internazionale. Noi siamo alla sesta edizione, siamo partiti nel 2019 con 14 aziende partecipanti. Oggi, quest'anno, ne abbiamo 62 perché due sono nostre start-up di nostri studenti. Non c'è una volontà ma è una conferma sulla fiducia del nostro percorso formativo. Una concreta opportunità per farsi conoscere e mostrare il proprio talento al cospetto di realtà prestigiose come, tra le altre, la fonte del benessere resort. Siamo un'azienda in crescita, un'azienda che sta investendo economicamente e non nel territorio, nello specifico nel turismo. Siamo molto orgogliosi di quello che stiamo facendo e chiaramente per noi è sempre importante riuscire a trovare nuove figure di ragazzi volenterosi che vogliono in qualche modo intraprendere nel mondo del lavoro. Per loro che sono qui oggi è una sorta di sliding door, nel senso troveranno quella che sarà la loro strada. Forse, se a loro piacerà, eventualmente per noi è un'occasione di conoscere nuove figure che abbiano volontà e che abbiano voglia di iniziare un'attività lavorativa che sia poi chiaramente favorevole per noi e per loro nell'ambito di un lavoro che diventa sempre più importante perché il turismo è assolutamente in crescita. Tanto che noi ovviamente abbiamo investito anche in un'altra regione, l'Abruzzo, in fonte del benessere, nella sede di Rivisondoli, nello specifico, dove stiamo creando veramente una bella realtà. Motivazione e competenze specifiche sono la base del reclutamento delle forze dell'ordine presenti all'evento con la Guardia di Finanza. Un ambito molto importante come quello universitario consente alla Guardia di Finanza di reperire quelle competenze che a noi servono per garantire il funzionamento della macchina e quindi sicuramente laureati in discipline giudizio-economica, sicuramente ingegneri, esperti di informatica. Ed ora ci occupiamo di una protesta a Pescara. Il candidato sindaco per il centro-sinistra Carlo Costantini protesta davanti al teatro d'annunzio chiuso dall'attuale amministrazione perché inagibile. Hanno causato danni a cittadini e commercianti. Questa l'accusa, ci dice tutto Valentina Ciarlante. Pescara si appresta a vivere la sua prima estate senza il teatro d'annunzio. La struttura, posta nella zona sud della città che ospita i prestigiosi premi Flaiano, è stata dichiarata inagibile dal Comune sulla base dell'esito delle analisi di verifica su staticità e vulnerabilità sismica. Dopo le critiche alla maggioranza da parte del PD circa le tempistiche della decisione arrivata dopo uno studio avviato anni fa, oggi è il candidato sindaco del centro-sinistra Carlo Costantini a tornare sull'argomento dichiarando che tra i primi atti di cui si occuperà da primo cittadino ci sarà la riorganizzazione del settore e la scelta di un manager di altissima qualità che rilanci lente manifestazioni pescaresi e che restituisca alla città il teatro d'annunzio. Questo in qualche modo testimonia l'incapacità di un'amministrazione che ha preferito il rifacimento delle mattonelle, la sostituzione dei pari della luce o le toppe di asfalto a quello che investe il futuro delle attività culturali di Pescara. Costantini poi dà voce ai commercianti penalizzati dai cantieri in centro e ai cittadini vessati dalle multe dei semafori col sistema T-RED. Incoscientemente hanno inserito una previsione di 11 milioni di euro e noi abbiamo già deciso che la larga parte dei semafori trappa la rispegneremo. L'anno scorso 370 attività economiche hanno abbassato la sala cinesca e anche Corso Umberto che doveva rappresentare, che rappresenta il fiorocchiello della nostra città, sta patendo un calo di ricavi vorticoso perché nell'area di risulta ci sono in corso quattro cantieri in contemporanea più il parcheggio di fronte al bingo che il mercoledì viene riservato al mercato con una perdita di centinaia e centinaia di posti auto. Io credo che peggio di così non si potesse fare, c'è bisogno davvero di riaprire la città di Pescara. E ci spostiamo a Campobasso per un'altra protesta, parliamo del sit-in di genitori, docenti e alunni davanti alla scuola Iovine in seguito al decreto dell'ufficio scolastico regionale che affide reggenza il direttore dei servizi generali amministrativi. Il vicepreside dell'istituto ha detto così si apre al rischio del taglio in occasione del dimensionamento scolastico. Sentite tutto nel prossimo servizio. Caos scuole a Campobasso si tinna la Iovine. La reggenza del direttore generale dei servizi amministrativi per docenti e genitori rappresenta solo un primo passo verso la soppressione della dirigenza. Per questo la grande mobilitazione davanti all'istituto scolastico che insiste in uno dei quartieri più popolosi di Campobasso con ben 12.000 famiglie. Gli studenti effettivi coinvolti sono 573, numeri che fanno capire l'importanza e la delicatezza del tema in questione. Il discorso è che noi siamo altamente preoccupati per quello insomma qualche settimana fa, quello che è successo al nostro istituto, che di fatto insomma con un provvedimento dell'ufficio scolastico regionale ci è stato proprio tolto il direttore generale dei servizi amministrativi per cui andremo l'anno prossimo in reggenza. Questo è un primo aspetto che non abbiamo ben capito perché il nostro direttore insomma stava al posto giusto insomma dove era. Aggiungiamo che noi attualmente stiamo in reggenza invece come preside, come dirigente scolastico. Allora diciamo 2 più 2 fa 4 nel senso che noi ci stiamo preoccupando che fra qualche mese quando la regione molise con molta probabilità dovrà ritoccare il dimensionamento scolastico forse vediamo insomma nell'ottica che possa essere servito già un bel piatto alla regione molise dove non abbiamo il dirigente, non abbiamo il DSGA, probabilmente potremmo essere noi l'istituto comprensivo Iovine che va a saltare. Si prevedono ulteriori iniziative dopo la raccolta firme avviata nei giorni scorsi e che ha riscosso un grande successo. Non è escluso il ricorso al tar molise sulla falsa riga di quello proposto dal comune di Ripalimosani laddove vi fossero i requisiti. Intanto i sindacati hanno chiesto un tavolo di confronto regionale confermando che laddove non fosse possibile non si escludono altre iniziative come spiegato dal segretario generale della FLCCGL Abruzzo Molise, Pino Lafratta. Credo che non si debba tagliare sull'istruzione e soprattutto le scelte devono essere fatte da chi ha il potere di farle quindi deve essere la politica, deve essere la regione, deve essere il governo ognuno per le proprie rispettive competenze. Laddove ci sarà questo tavolo daremo anche il nostro contributo in termini di possibili azioni laddove ce non avvenga verificheremo anche ulteriori forme di mobilitazione. Andiamo a Sulmona per parlare di un progetto per rieducare gli autori di reati sessuali con l'obiettivo di prevenire la recidiva e favorire il reinserimento sociale. Sonia Paglia. È stato firmato a Sulmona il primo protocollo in Abruzzo per corsi di rieducazione sulla violenza di genere destinati agli imputati condannati per reati che riguardano soprattutto la sfera familiare e sessuale. La sottoscrizione del documento avvenuta nell'aula del Tribunale Peligno, il protocollo, considerato un progetto pilota a livello regionale, è stato firmato dal procuratore e capo della Repubblica di Sulmona Luciano D'Angelo, da Luca Tirabassi, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e da Martina Marcone, rappresentanti della cooperativa L'Elefante. L'accordo consente di ottenere la sospensione della pena partecipando a corsi di rieducazione della durata di 18 mesi. Gli imputati di violenza seguiranno un percorso rigido e strutturato soprattutto in incontri motivazionali, psicoeducativi e psicoterapeutici durante il quale dovranno dimostrare di voler cambiare. Vedersi sottoporre un progetto presso un'associazione credibile, professionalmente riconosciuta, il Pubblico Ministero di Popoli e Pagliaggiamento deve fare una verifica se questa associazione sia realmente idonea ad esprudare questa funzione di formazione. nel momento in cui stipuliamo questo protocollo se un advogato proporrà il proprio assistito frequente il corso verso l'Elefante la propria non chiederà nessuna verifica perché l'ha fatta già preventivamente in tanti. Al momento i corsi si svolgono all'Aquila ma l'obiettivo è quello di creare una sede anche a Sulmona per rispondere alle esigenze di un fenomeno che è sempre più diffuso. Il suicidio si va ai reati di violenza sessuale lo stalking le lesioni permanenti quelle fatte per esempio con l'acido ecco sono tutte quella gamma di reati che hanno trovato purtroppo e trovano ancora purtroppo nella realtà di sfondo quotidiano nel nostro territorio una incidenza che in termini percentuali come dire si lascia non apprezzare certo da un punto di vista come dire sociale ma che ha un impatto che naturalmente ci ha portato ancora più a stipulare un protocollo di questo tipo quanto meno a riferimento alla realtà regionale. Ci spostiamo a Vasto l'interruzione dell'erogazione idrica sta creando molti disagi in città un disservizio che sta portando molti cittadini all'esasperazione il sindaco Francesco Menna è molto critico ed è stato sentito per noi da Pasquale Damiani Continuano i disagi a Vasto a causa dell'interruzione dell'erogazione idrica per la rottura di una condotta l'interruzione dell'erogazione idrica sta creando molti disagi in città come sottolinea il primo cittadino Francesco Menna la crisi idrica è un problema serissimo che riguarda il turismo il mondo delle imprese l'agricoltura il commercio è qualcosa di fondamentale noi abbiamo messo in campo una vera e propria battaglia siamo riusciti ad ottenere dall'aggiunta d'Alfonso 16 milioni di euro per la diga di Chiauci che alimenta Vasto Marina 2 milioni e 100 per il cerca perdite ho dall'aggiunta d'Alfonso ad oggi zero risorse quindi ho l'invito che faccio alla regione Abruzzo e al governo nazionale di mandare risorse per efficientare il sistema ma le tubature risalgono sottoterra al 1949 non è possibile bisogna finanziare il sistema della crisi idrica come bisogna finanziare le fogne e bisogna finanziare la raccolta delle acque piovane per evitare il caso Emilia Romani chi andrà in Europa ha questo obiettivo oggi avrà questa grande sfida quella di portare risorse per i comuni io da sindaco di Vasto ho creato una delega crisi idrica acqua nere e acqua e bianche me la sono tenuta io perché voglio litigare con il governo regionale con il governo nazionale con l'Europa per avere risorse la provincia di Sernia dovrà restituire circa 380 mila euro alla regione Molise si tratta di acconti versati nelle casse di via Berta per progetti mai giunti a conclusione Nicola De Santis la regione la regione Molise ha revocato i finanziamenti destinati alla provincia di Sernia per il progetto i viaggi della cultura per cui aveva concesso nel 2019 un'anticipazione di circa 374 mila euro il progetto approvato nel 2018 e gestito dalla provincia pentra prevedeva la realizzazione di quattro sottoprogetti il museo dei costumi del Molise l'osservatorio astronomico Leopoldo del Re il centro europeo di ricerche preistoriche e la formazione e promozione dell'offerta turistica quasi 2 milioni e mezzo di euro il valore complessivo dell'investimento nell'ambito del piano di sviluppo e coesione in particolare del patto per lo sviluppo nell'area tematica turismo cultura e valorizzazione delle risorse naturali fondi che facevano parte del programma integrato per lo sviluppo e la promozione del turismo denominato il Molise che incanta la regione ha elargito il 10% per ogni sottoprogetto ma la mancanza di progressi significativi nella loro realizzazione ha portato la regione Molise il 25 maggio scorso a revocare le determine con cui aveva erogato le somme anticipate richiedendo la restituzione dei fondi già versati ed ora andiamo a Chieti il Comune agevola la raccolta differenziata grazie ad un'applicazione Valentina Ciarlante raccolta differenziata sempre più facile a Chieti con un semplice click sullo smartphone le persone potranno avere ogni giorno informazioni e chiarimenti sul conferimento dei rifiuti oltre che sul calendario e l'orario dello spazzamento delle strade e su altri servizi tutto grazie all'app Junker che si può facilmente scaricare gratuitamente dagli store digitali fruibile da non vedenti anziani e con traduzioni in 12 lingue per agevolare turisti e lavoratori stranieri riconosce i rifiuti dal codice a barre e con dei semplici quiz agevola gli utenti nell'imparare a differenziare il Comune di Chieti si è dotato ufficialmente di Junker con l'obiettivo di ridurre la CO2 in atmosfera e di diminuire i costi di gestione dei rifiuti il progetto come ha spiegato l'assessora Chiara Zappalorto è frutto della collaborazione con Formula Ambiente basta inserire il proprio indirizzo di residenza e uscirà fuori il calendario per la raccolta differenziata quindi cosa conferire la sera per lo smaltimento appunto dei rifiuti domestici per le utenze domestiche e le utenze non domestiche oltre questo ci sono una serie di servizi molto utili ad esempio scannerizzando il barcode dei nostri prodotti l'app ci spiegherà come conferire quell'oggetto di cui magari abbiamo qualche dubbio e quindi ovviamente ci aiuta ancora di più Bene questo era il nostro ultimo servizio ora spazio alle previsioni del tempo Previsioni del tempo di venerdì 31 maggio in Abruzzo la circolazione depressionaria responsabile di residua instabilità mattutina si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca e un lento rasserenamento le temperature l'Aquila 13 gradi la minima 22 la massima Pescara 18-29 Chieti 19-27 Teramo minima 13 massima 27 gradi In Molise l'alta pressione garantisce tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche annuvolamento nel corso del pomeriggio Le temperature Campobasso 15 gradi la minima 21 la massima Isernia 13-22 Termoli 19-29 Venafro minima 15 massima 23 gradi Il nostro telegiornale termina qui Io vi ringrazio come sempre per la vostra preziosa attenzione e vi ricordo che potete seguirci sulle nostre pagine social e sul sito internet Ora non cambiate canale perché subito dopo la pubblicità ci sarà la nostra pagina sportiva con Pierluigi Boragine Lo sport il calcio di Lega Pro il Pescara cerca il nuovo allenatore nel frattempo i tifosi sono sul piede di guerra e protestano contro la società guidata da Daniele Sebastiani sentite in casa in casa Pescara continua la caccia al nuovo allenatore la società non ha ancora deciso a chi affidare la panchina e non si esclude che possa essere annunciato un nome a sorpresa resta in piedi l'ipotesi legata a Cangelosi ma non è l'unica trattativa che Sebastiani sta imbastendo intanto i tifosi saranno in protesta questa sera con una manifestazione nel piazzale antistante la curva nord nel mirino il presidente del Pescara Daniele Sebastiani e il direttore sportivo dell'Icarri che sono stati invitati a farsi da parte l'appuntamento è fissato alle ore 21 i gruppi organizzati hanno diramato un comunicato nel quale spiegano che i gruppi della tifoseria pescarese organizzano per la prima volta non una riunione ma un'assemblea rivolta a tutti i tifosi e i cittadini di Pescara nessuno è escluso semplici tifosi club singoli sostenitori insomma chiunque abbia a cuore il futuro della Pescara Calcio è giunta l'ora spiegano gli ultras di parlare con tutta la città e di unirsi per una protesta grande e coordinata che faccia capire una volta per tutte a Sebastiani di Icarri e compagnia che devono sparire dalla Pescara Calcio la nota testuale ed ora parliamo del campo basso perché la North Six gruppo di Matt Rizzetta cede le quote dell'Ascoli di cui deteneva il 19% entro il termine fissato al 29 maggio per essere in regola con l'iscrizione dunque concentra le sue attenzioni solo sul lupo come noto ai più il 29 maggio era il termine ultimo per essere in regola con l'argomento multiproprietà ebbene proprio ieri sera la North Six Group del presidente Matt Rizzetta ha ceduto il 19% che deteneva dell'Ascoli con tanto di nota ufficiale da parte della società marchigiana l'Ascoli l'Ascoli Calcio 1898 si legge comunica che la società Fair Invest Italia SRL già detendrice del 39% delle quote dell'Ascoli ha rilevato da North Six Group 190.000 azioni ordinarie pari al 19% del capitale sociale della società bianconera l'Ascoli Calcio ringrazia la società americana il suo rappresentante Rizzetta per il supporto la vicinanza e l'impegno profusi in questi anni si chiude quindi la vicenda relativa a un possibile conflitto di proprietà in serie C tra Campobasso ed Ascoli Rizzetta ha fugato ogni dubbio si tratta del secondo step superato alla grande assieme a quello relativo alla licenza d'uso dello stadio Molinari appena firmata dal comune capoluogo entro il 4 giugno data massima per effettuare l'iscrizione in serie C bisognerà assicurare una fide di usione di 350.000 euro oltre a altri adempimenti burocratici e il club rosso-blu si farà trovare pronto sul versante squadra fra due giorni va in scena la gara di andata della semifinale di Pulo Scudetto sul campo della Cavese la sfida contro i campani manca da oltre 20 anni previsti per i tifosi campobassani tra i 150 e i 200 biglietti stesso numero che sarà destinato ai sostenitori campani nel match di ritorno di giovedì 6 giugno calcio e volley questa sera a zona sport parleremo del campo basso e della promozione in serie a 3 della Energy Time Spike Devils Campobasso ospiti in studio con Franco Presutti l'attaccante del campo basso Niccolò Romero l'allenatore degli Spike Devils Campobasso Mariano Maniscalco i palavolisti Michael Zanni Stefano Diane Giuseppe Pacelli il giornalista Gennaro Petrec ed il medico Carlo Musenga dunque non perdete l'appuntamento di questa sera del 21 con zona sport trasmissione ideata e condotta dal collega Franco Presutti Ed ora parliamo della giornata di finali per i campionati studenteschi di atletica leggera in corso a Pescara Fratellanza ed Energia in una manifestazione che in questi giorni ha reso la città adriatica capitale dello sport italiano sentite giornata di finali allo stadio adriatico Cornacchia di Pescara i campionati nazionali studenteschi di atletica leggera sono giunti al termine in attesa della grande festa delle regioni in programma a Montesilvano e le ragazze e i ragazzi arrivati in Abruzzo circa 2000 hanno dato davvero tutto energia determinazione in una competizione che in tutte le specialità è apparsa subito sana gli studenti hanno fatto amicizia tra loro tifato per gli avversari tanti piccoli atleti che hanno mostrato grandi doti sul salto in alto il salto in lungo sui 100 sugli 80 metri insomma una vera e propria festa dello sport organizzata dal coordinamento di educazione motoria dell'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo sinergia tra ragazzi scuole docenti e uffici Renzo Suppo dell'ufficio scolastico regionale del Piemonte una manifestazione bellissima questi ragazzi poi sono davvero tutti entusiasti e fanno il tifo anche per gli avversari certamente sì è un'occasione unica che molti ragazzi per molti ragazzi è un ricordo che durerà per sempre perché la possibilità di incrociarsi legando la scuola con lo sport e ha un valore notevole proprio perché c'è questa parte che fa vivere in maniera diversa il percorso scolastico ed è un momento unico per tutti loro una tre giorni iniziata con l'accensione della fiaccola sulla spiaggia di Pescara che ha visto in veste di volontari tanti ragazzi del posto è un'esperienza bellissima che comunque ci fa crescere e stare qua tutti insieme allo stadio è una cosa bella per tutti sia per noi che abbiamo conosciuto anche altri compagni di questo staff e quindi ci stiamo divertendo tantissimo che cosa percepite da questi ragazzi che competono con grande entusiasmo sono molto competitivi perché ognuno di loro come è giusto che sia vuole vincere tutti bravissimi e i migliori ancora di più Elisa che cosa ti sta colpendo particolarmente di questa esperienza? Soprattutto l'unione che c'è fra le squadre e anche la cosa che ho notato di più è anche l'inclusione il fair play che hanno soprattutto per i ragazzi che hanno problemi e hanno sempre un sorriso e non sono mai arrabbiati e non si abbattono mai Bene questo era il nostro ultimo servizio della pagina sportiva grazie per averci scelto buona continuazione con la nostra informazione con la nostra programmazione arrivederci Grazie a tutti